Il 12 giugno, non farti fregare, il 12 giugno devi andare a votare i 5 referendum promossi dalla Lega per una giustizia più giusta. Dobbiamo votare per 5 sì. Il primo sì è sull'abolizione della legge Severino, quella che ha messo in difficoltà tantissimi amministratori locali che sono stati sospesi dalla loro carica solo perché condannati in primo grado di giudizio ma nella stragrande maggioranza dei casi sono stati poi assolti, erano innocenti. Questa è un'ingiustizia a cui noi abbiamo il dovere di porre fine. Il secondo quesito un sì convinto per la limitazione all'abuso della custodia cautelare. Sono quasi 30.000 gli innocenti che sono stati posti in carcerazione, cioè in carcere, negli ultimi 20 anni da innocenti. Anche qui dobbiamo votare un sì convinto per limitare questi abusi. Il terzo quesito è la separazione delle carriere dei magistrati. Non è più possibile che un giudice diventi PM o un PM diventi giudice addirittura all'interno dello stesso processo. Non accade questo in tutte le democrazie avanzate e grazie al referendum il 12 giugno non accadrà più nemmeno in Italia. Gli ultimi due quesiti sono quelli per l'equa valutazione dei magistrati. È sacrosanto che anche i magistrati vengano giudicati equamente per il loro operato. E il quinto ed ultimo quesito un sì convinto per la riforma del CSM che non può e non deve più rimanere ostaggio delle correnti che sono vere e proprie correnti politiche. E allora il 12 giugno non farti fregare. Loro vorrebbero che tu andassi al mare e invece il 12 giugno si va a votare e si va a votare convintamente per il sì.